Ok, volevo presentarmi e dirmi che sono Marcello Masotto, che sono il presidente di Fisico, ma qualcuno mi ha già preceduto e quindi vado oltre. Volevo anche dire che il tema di quest'anno sarà l'intelligenza artificiale, ma ancora una volta battuto sul tempo, quindi cominceremo con la presentazione che non vuole essere altro che un'introduzione a quello che saranno poi gli interventi tecnici di questa giornata. Vorrei che mi stai guista un pochino in questo percorso di riflessioni e di spunti che ho pensato per questo intervento. Innanzitutto, parlando di intelligenza artificiale, chiediamo cos'è l'intelligenza artificiale. Un professore delle Politecniche di Milano, Marco Somalvico, che purtroppo si è spento nel 2002, aveva dato questa definizione. L'intelligenza artificiale è una disciplina che è appartenente all'informatica, che studia fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di soffornire all'elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbe essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Questa è una delle migliori descrizioni più interessanti e più intellegibili che sono riuscito a trovare. In realtà, lui, visto che si è fermato con gli studi, suo malgrado, nel 2002, diciamo che da quando ha rilasciato questa dichiarazione adesso possiamo dire che l'intelligenza artificiale in questi ultimi vent'anni si sta specializzando nell'ottimizzazione degli algoritmi, quindi di parti software e dei sistemi hardware per dare una più efficiente risposta con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sembra che sia un argomento degli ultimi tempi, un argomento caldo degli ultimi tempi, purtroppo no, c'è, purtroppo no. La si studia già dal 1956, dove è stato fatto un convegno in cui già si parlava di intelligenza artificiale con alcuni prototipi di algoritmi, solo che l'esplosione negli ultimi tempi c'è stato perché adesso abbiamo, diciamo, la tecnologia che ci consente di sviluppare alcune idee che sono state concepite già negli anni 60. Questo è per farvi vedere che già nel 1987 abbiamo avuto un convegno internazionale in Italia che trattava questo tema. questi sono i libri degli atti degli eventi perché non c'era internet così diffuso. Una volta che facevano delle relazioni queste venivano messe nei libri relegate e tanti erano gli interventi, come vedete, tanti erano i libri che rilegavano. Vi prego anche di notare che è un intervento internazionale, un evento internazionale già prestigioso a giorni di oggi. Un evento nel 1987 era ancora più prestigioso perché non c'era modo di comunicare con l'instant messaging, con mail. Le persone si organizzavano semplicemente col telex, alzando il telefono e facevano cose abbastanza interessanti. Quando abbiamo iniziato a parlare del Linux Day di quest'anno, quindi dell'intelligenza artificiale, ovviamente abbiamo fatto un piccolo sontaggio, amici, parenti, conoscenti fermati per strada. Cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale? Vorremmo fare un convegno quest'anno. Tra le tante cose, un elemento comune che è emerso è la paura che ci fa questa intelligenza artificiale, questa creazione dall'uomo che ne potrebbe eguagliare la potenzialità, però potrebbe prevalere per efficienza ed efficacia. La paura che è un po' questa nostra invenzione, ci sfugga di mano e ci sostituisca in qualche modo, che l'intelligenza artificiale ci rubi il lavoro o cos'altro. Allora mi sono chiesto ma perché abbiamo così tanta paura, perché così tanta radicata in noi? Veramente tutte le persone avevano questo elemento comune, l'intelligenza artificiale però fa un po' paura. E allora sono andato un po' alla ricerca dei motivi. Uno dei motivi possiamo riscontrarlo già nel 1818 con Mary Shelley, con il libro di Frank Stein, questo scienziato Victor Frank Stein che si vuole un po' avvicinare a Dio offrendo la scintilla divina una creatura composta dalle migliori parti di corpo e di mente assemblati dai cimiteri in modo da costruire una creatura migliore, più potente e più intelligente degli altri. L'unica cosa è venuto fuori un mostro deforme e è disgusto almeno alla vista e al parere di Frank Stein, così lo caccia. Disgustato da questa vista la creatura si rivolta contro il suo creatore e pian piano gli stermina amici, parenti, anche la moglie nel giorno del matrimonio. Quindi già l'imprinting come letteratura non ce l'abbiamo tanto favorevole. Continuiamo nel 1921 con Karel Chapek, che è poi l'inventore del termine robot, che viene poi dalla parola robota, lavoro in cieco, con i robot universali di Rossum, più famoso come Rur, che erano degli otomi che sostituivano gli esseri umani nel lavoro pesante, continuo, rutinario, noioso e pian piano però anche loro si rivoltano contro gli esseri umani e li stermino. Con Alan Turing, che a soli 24 anni getta le basi dei nostri moderni computer e continua con la sua opera di criptografo, filosofo, getta le prime basi degli algoritmi, le cose cambiano. Io capisco, c'è qualcuno che si sta domandando, probabilmente sento delle voci, 24 anni già, ha fatto un computer, nulla, nulla, nessuno ci aveva mai pensato, questo qua 24 anni fa un computer. Vi preoccupate, era un genio, quindi soffrite di questi complessi inferiorità, non ci potremmo mai arrivare. Con Alan Turing il modo la letteratura cambia e quindi abbiamo la possibilità di realizzare una creatura che ci assomigli e che sia anche più intelligente, cose di questo genere, si avvicina alla portata dell'essere umano. E cominciano allo sviluppo di tutta una serie di letteratura, immaginando l'intelligenza artificiale, il robot e cose di questo genere. Molto interessante è la risposta, che è un romanzo breve di una pagina, far parentesi, di Frederick Brown nel 1954, che bene o male fa capire, insomma, cosa bolla in pentola. Ve lo leggo proprio per i suoi commenti e per farvi capire. Si rialzò con un cenno del capo, Duarte Reyn, e accostò la leva, alla leva, scusate l'emozione, e si accostò alla leva dell'interruttore generale, la leva che avrebbe collegato in un solo colpo tutti i giganteschi calcolatori elettronici di tutti i pianeti abitati dell'universo, 96 miliardi di pianeti abitati, formando un supercircuito da cui sarebbe uscito il supercalcolatore. Un'unica macchina cibernetica racchiudente tutto il sapere di tutte le galassie. Edward Reyn si abbasso la leva. L'onore di porre la prima domanda aspetta a te, Edward Reyn. Grazie, rispose Edward Reyn. Sarà una domanda a cui nessuna macchina cibernetica ha potuto da sola rispondere. Tornò a volzarsi verso la macchina. C'è Dio? L'immensa voce risposta senza esitazione, senza il minimo crepitivo di valvoli e condensatori. Sì, adesso Dio c'è. Quindi capite un po' quanto la letteratura, diciamo, ad essere propositivi con l'intelligenza artificiale non ci ha aiutato fin dai tempi passati. Ma neanche la filmografia ci ha aiutato un granché. 2001 odisse nello spazio, al 9000 con il suo famoso occhio rosso che tutto vede, che gestisce l'astronave che deve andare in viaggio per Giove, commette un errore segnalando un guasto che non esiste, gli astronauti che non erano nel criosonno si accorgono di questa cosa, hanno detto, beh, può darsi che non sia molto affidabile, diremo di spegnerlo. Allora, si mettono in una capsula credendo di non essere sentiti, ma non sapevano che l'intelligenza artificiale leggeva il labiale. Al 9000 con la paura di essere spento, beh, praticamente stermina quasi tutto l'equipaggio. Solamente l'ultimo degli astronauti con un guizzo di intelligenza riesce ad entrare nel calcolatore e spegnerlo. Terminator, il robot con l'occhio rosso. Anche qua il robot è nato da un'intelligenza artificiale addetta ai sistemi di sicurezza, che era stato progettato grazie a un chip con le basi di reti neurali, che cerca di sterminare il genere umano con un olocausto nucleare. Diciamo non ci riesce, ci sono sacche di resistenza, soprattutto uno fra tutti, il capo dei rivoltosi, non riesce mai a prenderlo, allora l'idea è una cosa molto interessante, c'erano i viaggi nel tempo, manda un Terminator indietro nel tempo per uccidere la madre dei rivoltosi per mettere fine in anticipo alla rivolta. Ma anche nei film di animazione 3D abbiamo lo spettro che legge di questa intelligenza che ci può sopraffare. Ricordiamo un discorso preso dagli incredibili di Mirage, la donna che vedete là, l'Ominoidroide 9000, questo è il nome della macchina con quest'occhio rosso, anche lui che tutto guarda, è un prototipo di robot da combattimento. La sua intelligenza artificiale gli permette di risolvere qualsiasi problema che si trovi di fronte e sfortunatamente, mi lascio indovinare, è diventato così furbo da chiedersi perché prendere ordini. Ovviamente questa macchina intendeva sterminare tutti i supereroi. Questo per farvi capire, questo è un film di animazioni destinato dai bambini da pochi anni di vita fino ai vecchi di 80-90 anni che ce la fanno a reggere questo tipo di film di animazione, è un messaggio che viene vericolato a tutti e che probabilmente può alimentare delle paure, cioè a dare per scontato che un'intelligenza artificiale a un certo punto si chiede beh, io sono efficiente e efficace, tu mi hai creato, va bene, però non sei efficiente quanto me, perché io devo prendere ordinate? In contrattendenza a tutti quanti invece scrisse Isaac Asimov sui robot e sull'intelligenza artificiale una famosissima raccolta è appunto Your Robot che dà il nome a un film liberamente ispirato diciamo alla scritta ai racconti di Isaac Asimov che però è liberamente ispirato perché nel film comunque l'intelligenza artificiale diciamo si rivolta cerca di far danno all'essere umano ma per proteggere in suo vantaggio mentre Isaac Asimov diceva no non è sensato che noi costruiamo dei utensili che dovrebbero garantirci un servizio che potenzialmente ci possano arrecare un danno e allora così fu l'inventore a parte che della parola robotica che si deve a lui anche delle famose tre leggi che si danno per scontato che hanno dato diciamo anche l'imprinting per le tre leggi di Robocop non so se ve le ricordate che praticamente si basavano sulla necessità di sicurezza servizio e di autoconservazione dei robot in pratica la prima legge diceva che i robot non devono arrecare danno all'essere umano né per azione diretta e neanche per il mancato intervento la seconda legge diceva che un robot deve obbedire necessariamente un essere umano se questo ovviamente non confligge con la prima legge non può ordinare di uccidere un altro essere umano perché confliggerebbe con la prima legge la terza legge dice un robot deve proteggere se stesso a meno che questa cosa non confligge con la prima e con la seconda legge però diceva io ho inventato questa cosa in narrativa nei robot specificando le tre leggi però se noi pensiamo perché noi diciamo ai robot diamo una figura umana noi tendiamo a umanizzare un po' tutti anche per rassicurarci pensiamo al gattino amore mio al cagnolino oh che bella ha fatto la passeggiata ha fatto la cacca simpatico però questa cosa insomma che i robot abbiano le nostre sembianze e assomigliano tanto a noi ci possono fare ricordare insomma che comunque gli esseri umani non sono degli stinchiti santo anzi e potrebbero in qualche modo ingannarci però lui diceva ripensate sempre che sono degli utensili e io degli utensili se queste tre leggi l'avessi fatto per degli utensili l'avrei formulate così un utensile deve essere usato senza pericolo una motosega non è che lo fai per tagliarti un braccio magari lo fai per tagliare il legno un utensile deve svolgere la sua funzione sempre che lo faccia senza rischi ovviamente un utensile deve rimanere intatto durante l'uso a meno che la sua distruzione non sia richiesta per motivi di sicurezza o a meno che la sua distruzione non faccia parte della della sua funzione diciamo queste leggi io non le scriverei per degli utensili perché comunque tutti le darebbero per scontato per i robot ne abbiamo bisogno diciamo per esplicitare quanto detto prima con le tre leggi noi pensiamo che beh a posto non possono regalare danno all'essere umano neanche col mancato intervento devono obbedirci e devono comunque tutelarci contro l'auto denneggiamento festa finita andiamo a casa cioè le tre leggi abbiamo fatto lui invece con Asimov con la sua narrativa speculativa e tramite i suoi racconti praticamente spiega come ci sono delle sacchie di di interpretazione di queste tre leggi se non ci sono degli aspetti limite dove queste tre leggi potrebbero causare diciamo dei problemi pensiamo portate ai giorni nostri che una macchina guida autonoma si trovi a percorrere una strada a grande velocità dei bambini distratti che giocano a pallone gli si presentano davanti l'intelligenza artificiale ha una sola possibilità quella di deviare il suo percorso e di fare un sicuro incidente con la macchina che viene dall'altra corsia a questo punto cosa decide salva i bambini e quindi fa un incidente probabilmente mortale con un'altra macchina o decide di colpire i bambini questo è uno dei tanti interrogativi che Isak Asimov e che comunque tuttora l'intelligenza artificiale si pone alcune di queste domande Daniele Zonca darà risposta nel pomeriggio o tenterà di dare una risposta ma per quanto noi possiamo mettere in salvaguardia i nostri strumenti i nostri servizi saremo mai davvero sicuri se noi pensiamo a quanti soldi vengono spesi per mettere in sicurezza le banche e quanti furti ancora subiscono a quanti soldi noi spendiamo per le auto e alle auto adesso ci hanno l'ABS ci hanno l'airbag ci hanno il roll bar ci hanno l'urto la carrozzeria che assorbe gli urti eccetera la cintura di sicurezza adesso abbiamo il park assist che ci fa parcheggiare con un solo pulsante eppure ci sono decine di migliaia di morti sulle strade quindi dobbiamo mettere nel calderone che l'intelligenza artificiale è possibile che crei qualche danno nonostante diciamo i nostri i nostri sforzi una cosa vi volevo fare notare nei racconti di Asimov che sono scritte non vi posso fare vedere tutti i suoi robot hanno gli occhi rossi ma anche nel film di Will Smith per esempio i robot Link con l'intelligenza artificiale faceva spuntare una bella luce rossa e non so se avete fatto caso ma ok l'occhio al 9000 l'intelligenza artificiale 2001 spaziava l'occhio rosso terminate l'occhio rosso dell'omini del 9000 è possibile che quest'occhio rosso sia sintomo di un di un certo tipo di intelligenza io non credo dico abbiamo per adesso parlato di filmografia e di letteratura ma effettivamente cosa succede nel mondo reale nel mondo che abitiamo beh sempre un pochino di storia ok io punto sempre di qua ma il sensore è di là sempre un po' di storia nel 10 febbraio del 1996 Gary Kasparov viene battuto dall'intelligenza artificiale Deep Blue un computer adatto per giocare a scacchi di IBM notizia sensazionalistica il computer è battuto sì era in un torneo di sei partite ha vinto la prima le ha perse tutte cinque rivincita nel 1997 esattamente nel 11 maggio del 97 si ripropone il torneo in condizioni di parità fino alla quinta partita Kasparov perde l'ultima e quindi praticamente perde il torneo tutti a dire il computer ha battuto l'essere umano in realtà il documentario Game Over Kasparov and the Machine ci dice come questa vittoria un pochino dubbia perché Kasparov ha notato che in alcune mosse non c'era lo schematismo del del computer che aveva rilevato nelle altre partite e quindi poteva esserci stato un aiuto umano anche perché il computer non era la stessa stanza ma era locato a chilometri di stanza quindi veniva comunicato la mossa decisa dal computer 5 minuti porca miseria ok devo andare un pochino veloce ok benissimo insomma ci sono stati dei dubbi vedete Game Over e Kasparov and the Machine molto interessante cosa aveva Deep Blue una forza bluta riusciva a calcolare 200 milioni di mosse al secolo 200 milioni ragazzi in un minuto sono un miliardo e 200 di milioni di mosse calcolate solo che praticamente vedeva la situazione della scacchiera aveva un po' di dati a disposizione calcolava questo va bene questo non va bene questo non va bene vedeva le mosse migliori ne scegliava una tac quindi praticamente era un attacco a forza bruta supportato da un da un ambassador abbastanza potente 20 anni dopo voilà il 15 marzo del 2016 AlphaGo di Google batte Sedol questo è invece un gioco un pochino più complicato il Go si dice addirittura in un proverbio cinese che nessuna partita di Go è stata mai giocata due volte tanto è la complessità del tipo di partita e quindi non si può avere neanche la previsione di come potrà andare una partita nel mezzo l'approccio di Deep Blue a forza bruta non sarebbe stato applicabile è sceso in campo Google con il Deep Learning che poi è un caso particolare del Machine Learning che si basa più sull'utilizzo di reti neurali artificiali di cui ci parlerà Francesco Alaino più tardi Deep Learning le reti neurali io salterei a più e pari visto il tempo Casio Cambridge Analytica tramite un algoritmo di Michael Kosinski che è un ricercatore di Cambridge e da qua che viene il nome della società ha fatto un modello che è studiato per prevedere di anticipare le mostre degli individui diceva Kosinski che erano sufficienti 70 mi piace messi su Facebook per sapere più delle cose sulla personalità di un soggetto rispetto ai suoi amici 150 per saperne più dei genitori del soggetto in realtà detto la madre in questo caso e 300 per superare le conoscenze del suo partner con una quantità maggiore di mi piace è possibile conoscere più delle cose sulla personalità rispetto di quanto ne conosca il soggetto esattamente parlava di emozioni con più di 300 mi piace riesce a pronosticare le emozioni che un soggetto potesse avere di fronte a qualche cosa purtroppo hanno avuto accesso illegale a 50 milioni di profili di Facebook e quindi praticamente hanno avuto un archivio immenso due minuti e insomma a quanto pare sembra che abbiano come dire cercato di influenzare le ultime elezioni americane FaceApp l'app che è invecchia bello bellissimo simpatico poi andate a leggere il disclaimer praticamente i vostri dati siccome l'app ha accesso comunque alla galleria e alle vostre foto e la foto che inserite non viene elaborata nel vostro telefono ma in un server praticamente di questi dati voi praticamente non sapete più che cosa fanno che fine fanno fin qua ho elencato le cose brutte l'intelligenza artificiale porta a rischio furto di identità e tutto quanto è tutto così brutto l'intelligenza artificiale quindi è da scartare a priori no ci sono delle cose simpatiche il riconoscimento vocale quando noi facciamo anche il dettato sul nostro smartphone l'intelligenza artificiale interviene perché ci sono delle frasi particolari in cui ne deve capire il senso tipo il lavoro è a buon punto virgola non manca una virgola punto deve capire cosa scrivere di punteggiatura e cosa no gli home assistant simpaticissimi si possono dare degli ordini se sono collegati a degli smart building possono insomma accenderci la luce o avviare qualche elettrodomestico chi non si è ancora degli appassionati di Harry Potter chi è che non ha provato con il suo smartphone o che è Google Lumox massima per accendere la torcia del del proprio smartphone ma ci sono alcuni contesti dove quanto tempo ho? ho finito? ok devo correre alcuni scenari dove i videolesi per esempio possono contare sulla lettura delle immagini descritte dall'intelligenza artificiale abbiamo automobili intelligenti a guide assistite il park assist di cui dicevo prima o addirittura autonoma come vuol fare Tesla ci abbiamo il riconoscimento se è utilizzata nel riconoscimento dei piccoli tumori nelle slide abbiamo anche i robocammerieri a Roma per un locale di susciti 620 quadri se vi capita ma cosa accadrà domani? io personalmente sono abbastanza favorevole alla visione di Asimov penso che comunque è uno strumento che ci potrà avvantaggiare soprattutto per scollarci dal lavoro ripetitivo continuo antipatico pensare tantissimo ai telefonisti che ci telefonano all'otto di sera per proporci dei contratti telefonici di questo genere e ci potrà dare possibilità più tempo per sviluppare le nostre passioni e i nostri interessi principali fatto da noi con i servosistemi che di solito applichiamo ai servizi o alle cose che facciamo non dovremmo avere problemi anzi ci dovremmo avvantaggiare in un futuro più roseo questa è la fine scusate il ritardo spero spero sia stato interessante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti